Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi direttamente dalla mia postazione da gaming in realtà sono sempre nello stesso posto però mi sono solo girato oggi per andare a vedere in anteprima il nuovo SRAM Red perché andiamo direttamente all'interno del sito di SRAM per vedere tutte le novità del nuovo gruppo due settimane fa avevo già fatto il video dove lo avevo già notato nelle bici di E-Pro e avevo provato a ipotizzare tante cose che siccome andavano a migliorare in base ai difetti che aveva il gruppo nella versione precedente quello che era risalito e anche le cose che invece hanno i competitor e loro non avevano e devo dirvi che tante cose le avevo azzeccate però ora andiamo a vedere nel dettaglio direttamente nel sito di SRAM cosa è saltato fuori come prima cosa vediamo prestazioni senza sforzo perfezione senza sforzo quindi cosa ci dicono? che vediamo la collezione che in realtà abbiamo già visto questo è il gruppo completo questa è la leva molto interessante che dopo andiamo a vedere questo è il nuovo deragliatore anche lui interessante che dopo andiamo a vedere la guarnitura che è molto bella effettivamente vista così mi piace molto più dell'altra spoiler ho già visto il peso è molto interessante è la guarnitura più leggera nel mercato e andiamo subito a vedere cosa ci dicono invece delle leve versatilità perfetta quindi abbiamo raggiunto nuove scoperte per il comfort e la versatilità del cofano Frenored ovvio le parole non sono scritte benissime perché il sito è tradotto dall'inglese all'italiano non solo la forma perfetta per i palmi di qualsiasi dimensione i Frenored offrono anche una gamma più ampia di regolazioni indipendenti dalla portata e dal contatto del cuscinetto senza pizzicare le dita o toccare il fondo della barra andiamo a vedere cosa vuol dire questa cosa allora come prima cosa ci dicono che sono molto più ergonomiche questa è la leva vista all'interno vediamo se... esatto volevo proprio cercare questa cosa la leva vista dall'alto abbiamo una leva che è leggermente più alta in questa parte qua per renderla più comoda e soprattutto vediamo se ce lo dicono o ce lo fanno vedere da qualche parte è leggermente più inclinata per seguire più facilmente il palmo della mano qua vediamo che c'ha i bottoncini perché nella vecchia versione non c'erano ma qua hanno semplicemente copiato quello che fa Shimano in realtà da un po' anche Campagnolo se non sbaglio lo fa non in tutti i gruppi ma lo fanno nell'Ultra, nel Durace tipo io al 105 non c'è è una funzione molto comoda perché ti consente di andare a cambiare la pagina del computerino direttamente dal pulsante quindi è una cosa molto comoda e se non vogliamo utilizzare questa funzione in teoria si dovrebbe anche poter sfruttarlo per cambiare interessante come cosa non ce l'aveva SRAM e l'ha portata vediamo cos'altro ci dicono sulle leve ecco qua ci fa vedere la differenza di leva dalla vecchia leva che effettivamente era più scomoda alla nuova leva quindi è più bassa e molto più ergonomica secondo me nella parte qua davanti va tanto in avanti ma da quello che c'è stato prima si può regolare come si vuole quindi da qua la possiamo poi spostare più indietro e anche se c'è una mano piccola se abbiamo una mano piccola possiamo avvicinarla senza problemi di fatti ci dovrebbe essere un video da qualche parte anche nel sito SRAM dove c'è Casa Neva Doma che dice che è molto comoda la leva hanno fatto un video molto carino in stile Apple qua davanti non si vede c'è la vite di regolazione proprio per andare a regolare questa distanza e secondo me è molto comoda qua perché almeno ti facilita la vita tipo Shimano c'è la messa qua sotto e ok non è difficile però se non sei molto attento nel farla rischi di spanare la vite che non è il massimo allora adesso questa ve la traduco perché è una cosa interessante riguardo la vediamo se magari ci siamo persi qualcosa ok sì alla fine andiamo a tradurre stanno dicendo che la forma si è basata su uno stampo in 3D della mano qua invece vediamo una cosa molto interessante l'energia di frenata perché ci dice che si riesce a frenare in modo molto potente con un 80% di sforzo in meno in frenata e il 33% in meno di sforzo in caduto per una guida senza sforzo quindi i freni dovrebbero essere diventati molto più potenti e possiamo frenare con uno sforzo minimo praticamente allora anni di lavoro hanno dato come risultato i nostri migliori controlli sempre comodi, semplici, connessi e potenti ok e devo dirvi che la leva l'altra volta vi avevo detto che mi sembrava molto simile a quella di FSA però effettivamente è uguale a quella del GRX non uguale però si vede che hanno preso spunto da quella ma ritorniamo nella pagina iniziale dove ci dicono proprio questa cosa della frenata quindi frenata con un dito ovunque con meno sforzo i freni RED richiedono l'80% di sforzo in meno rispetto a quando si frena dai cofani ok questa è la traduzione ecco adesso arriviamo a un punto che nello scorso video vi avevo accennato cambio più rapido e preciso una gabbia più sottile per cambi antelore più rapidi e affidabili trim automatico quindi al sistema automatico molto simile a quello di Shimano secondo me esempio io metto la corona grande mi regolo solo l'inizio corsa non il fine corsa e in base al cambio che metto posteriore lui si regola in automatico quindi questo scrivono che evita i rumori per una configurazione più semplice che mai e si sta per effettivamente SRAM non aveva questa funzione che ha Shimano che è molto comoda vi avevo accennato quello qua questo è il deragliatore anteriore è più fino adesso traduciamo anche questa pagina allora la gabbia rispetto alla gabbia vecchia è più fina e questo gli dovrebbe aver fatto guadagnare più velocità una cosa che era uscita fuori dai vecchi gruppi che erano molto lenti rispetto ai competitor quindi questa cosa dovrebbe aver giuvato e avendo fatto il deragliatore più stretto hanno dovuto poi anche introdurre la funzione che vi accennavo accennavo prima in caso vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito di SRAM come sto facendo io e SRAM se vuoi mandarmi un gruppo io sono molto contento di provarlo ok quindi adesso passiamo a un punto fondamentale vi avevo accennato nel video scorso che secondo me SRAM voleva creare un gruppo più leggero e di fatti proprio qua ci dicono è il gruppo più leggero il gruppo più leggero che possate trovare allora il gruppo completo pesa la bellezza di 2496 grammi sono stati abbassati 153 grammi rispetto alla vecchia edizione diciamo che secondo me il vecchio SRAM comunque era un cambio molto leggero in prime si aveva una guarnitura che era molto leggera perché era in carbonio e hanno passato altri 153 grammi quindi tanta tanta roba e vediamo se qua ci dicono qualcosa il nostro team di sviluppo dei prodotti di trasmissione ha perfezionato il processo di stratificazione del carboneo delle pedivelle con un piccolo aiuto dalla parte degli esperti di Zip Zip fa parte di SRAM quindi si sono fatte aiutare con un consumente risparmio di 29 grandi per la guarnitura senza perdita di rigidità tanta tanta roba inoltre la catena rossa è stata aggiornata con la nostra costruzione holopin questa tecnologia è più leggera e resistente di un perno solido e i ritagli nelle piastre esterne riconducono un peso di catena di 13 grammi allora qua siccome la traduzione sbaglia un attimo stanno dicendo che è più solida rispetto a una falsa maglia la chiusura con il pin da quanto deduco e hanno guadagnato altri 13 grammi solo dalla catena quindi 29 più 13 siamo già a 42 grammi deragliatori anteriore e posteriore il deragliatore posteriore ha ricevuto una puleggia più grande e cuscinetti in ceramica attenzione questa bellissima cosa io pensavo che invece copiavano l'XX mettendo la puleggia la puleggia diciamo speciale che se andava se va a finire un qualcosa all'interno si riesce comunque a pedalare però effettivamente non ha molto senso su strada e hanno messo delle pulegge ceramiche tanta tanta roba questa cosa mica Zambotto adesso che l'ho letta quindi 16 grammi il deragliatore anteriore non solo è più veloce e preciso ma anche più leggero di 4 grammi quindi sono state guadagnate altri 20 grammi dai deragliatori 16 dal posteriore e 4 dall'anteriore i rotori ok quindi poche parole altri 8 grammi la cosa vediamo allora come rapportatura da quello che si capisce sono rimaste le stesse rapportature di SRAM le cassette da quello che ho visto anche sono praticamente le stesse come rapportature quindi consigliano il 4835 il 5036 allora ritorniamo nella pagina principale le cose ovvie più che altro lo traduciamo sempre le cose ovvie che c'erano anche nell'altro gruppo non le vado a dire tipo la personalizzazione nell'app è una cosa che c'è in tutti i gruppi SRAM quindi non mi soffermerei più di tanto ecco questo è il video molto carino che vi dicevo prima che secondo me hanno preso ispirazione da Apple un video in stile Apple molto molto bello l'attrezzatura giusta per te allora ecco volevo sto proprio pensando a questa cosa il gruppo è più silenzioso fluido anche quando è agitato questa è una cosa che hanno messo secondo me per il gravel altra cosa che non mi aspettavo in realtà che ho visto adesso dopo che ho iniziato a montare il video è che il gruppo è retrocompatibile con le vecchie versioni non me l'aspettavo perché nei gruppi di mountain bike e l'XX non sono retrocompatibili con la serie precedente XX1 e quindi immaginavo che potevamo fare una giocata di questo genere e invece no quindi una cosa bella che chi ha un gruppo SRAM Rival SRAM Force SRAM Red attuali possono comunque accoppiarli assieme al nuovo gruppo SRAM Red andiamo a vedere il misuratore di potenza misuratore semplice precisa e suprema vediamo altre cose benvenuti in Red XS ok allora volevo un attimo vedere vediamo se ce lo fanno vedere ma penso di sì le guarniture perché la guarnitura secondo me è molto molto bella no qua non ce lo fa vedere però se andiamo su la possiamo vedere allora tornando a noi questa è la vitina che vi accennavo prima per andare a regolare la distanza delle leve in una posizione molto comoda qua si vede quanto sono inclinate verso l'interno le leve e quindi diventano poi secondo me tanto tanto più comodo rispetto a quelle di prima solo per questo aspetto vi accennavo prima della guarnitura eccola qua è simile alla versione precedente però effettivamente è molto più bella secondo me molto molto più bella allora che dire l'ho appena visto anch'io ufficialmente questo gruppo effettivamente ci sono delle cose che non mi aspettavo tipo le pulegge ceramiche tanta roba per un gruppo siccome è un montaggio di base c'è un risparmio minimo di watt ma se andiamo a pensare a delle pulegge ceramic speed che costano solo loro 500 euro comunque essendo un gruppo top di gamma questa cosa è quella chicca in più che mi far dire tanta roba e per il resto sono curioso di sentire delle recensioni di questo gruppo sarei molto curioso di provarlo e detto questo spero che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale c'è la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e se lo fate siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti